benvenuti nella landa degli evocatori 30 secondi alla generazione dei minion il 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 Sì, è vero. Grazie a tutti Grazie a tutti Facciamoci qualche amico Facciamoci qualche amico Vieni a giocare con me Ok 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 Un nemico è stato ucciso Un alleato è stato ucciso Vieni a giocare con me io non lo farei serie di uccisioni interrotta torna indietro non lo farei non è non lo farei non lo farei non lo farei facciamoci qualche amico non 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 Sì, vieni a giocare con me. Sì, vieni a giocare con me. Sì, vieni a giocare con me. Sì, vieni a giocare. Sì, vieni a giocare con me. Sì, vieni a giocare con me. Sì, vieni a giocare con me. Sì, vieni a giocare. 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 Facciamoci qualche amico. Vieni a giocare. Vieni a giocare. Vieni a giocare con me. Non ci credo. Un nemico è stato ucciso. Sì, vieni a giocare. 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 C saldrò. Sì, vieni a giocare. Hai mamma? Ma pare. No, no, no. serie di uccisioni vediamo cosa fai adesso aspetta facciamoci qualche amico la tua squadra ha distrutto un attore un alleato è stato ucciso un nemico è stato ucciso ok ok serie di uccisioni un'interrocca via dove andiamo Un nemico è stato ucciso, un aleato è stato ucciso, un nemico è stato ucciso. Un nemico è ucciso, un aleato è ucciso. Un nemico è ucciso, un nemico 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 è ucciso. sovrumano si Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti.